Obiettivo è un cambio culturale che investa gran parte della città nei prossimi anni sul tema ambientale e sull'utilizzo delle auto. L'inizio è con una lunga pista ciclabile da poco meno di tre chilometri che metterà in collegamento via Barletta con la zona delle scuole cittadine e dunque via Biceglie, con un anello che attraverserà tutto il centro della città di Andrea. Una ciclovia al momento assenso unico con uno spazio di circa due metri che partirà dalla casa cantoniera in via Barletta trasformata in velo stazione e toccherà anche Palazzo di Città, l'intersezione di Piazza Castello, sino ad arrivare in via Paganini. In attesa che venga poi realizzata la pista ciclabile da ferro tramviaria, una delle opere accessorie del progetto di interramento e che completerà l'anello ciclabile. In particolare su via Ferrucci saranno 68 i posteggi delle auto che verranno eliminati e che saranno spalmati nelle strade vicinore mentre si attendono novità sui luoghi destinati a parcheggi pubblici o privati, aree già individuate nel piano urbano della mobilità sostenibile. Dobbiamo necessariamente creare le condizioni concrete perché si possa decidere anche di utilizzare mezzi alternativi appunto all'automobile. Comprendiamo quelli che saranno disagi parziali per i parcheggi che verranno comunque garantiti nelle zone limitrofe, ma ecco c'è bisogno anche di uno scatto culturale che ci impone in qualche modo di pensare appunto alla mobilità sostenibile in maniera concreta utilizzando mezzi alternativi appunto all'automobile. Le problematiche sollevate da commercianti e residenti sono state analizzate dall'amministrazione comunale nei diversi aspetti, è stato spiegato questa mattina in conferenza stampa, ma l'idea della ciclovia nasce dall'esigenza di dover avviare un processo di cambiamento all'approccio dell'uso dell'auto in una città ingolfata da circa 75.000 auto di proprietà per un sistema urbano che potrebbe contenerne praticamente la metà. Senz'altro è far parte di una rete di ciclovie che immaginano una mobilità diversa nella città di altri, quindi è un primo passo, per chi poi i commercianti e i residenti pensano che perdono qualcosa, aggiungiamo qualcosa. A pensare sulla decisione ci hanno pensato anche i dati non troppo positivi derivanti dalle centraline di monitoraggio dell'area. La pista ciclabile è in una fase avanzata e i lavori dovrebbero partire a breve visto che tra qualche giorno scade il bando per i lavori di un finanziamento da circa 300.000 euro vinto dal lente un paio d'anni fa. Nel corso della conferenza stampa di questa mattina poi il sindaco Giovanna Bruno ha voluto sottolineare la ripresa di un vecchio progetto abbandonato da anni per la realizzazione di un parcheggio interrato da circa 250 auto in piazza Umberto I, un'idea progettuale da realizzare con i privati e su cui potrebbero esserci novità già nel 2024.